impariamo i mezzi di trasporto aeroplano furgone bicicletta ambulanza automobile razzo barca camion dei pompieri taxi Ciao a tutti! Che splendida giornata! Oggi andiamo alla fattoria! Vai con Bob in fattoria ia ia oh quante bestie sulla via ia ia oh c'è la papera quack 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 Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Quante bestie sulla via, ia ia o. C'è la mucca, 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 mucca. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Quante bestie sulla via, ia ia o. C'è il maiale, ia le, il maiale. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Quante bestie sulla via, ia ia o. La gallina, la gallina, la gallina. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Quante bestie sulla via, ia ia o. C'è il maiale, c'è il maiale. C'è la pecora, mucca, mucca, mucca. C'è la pecora, mucca, mucca. Pecora, mucca, mucca. Pè, pecora, mucca. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Quante bestie sulla via, ia ia o. C'è il cane, cane, ca, ca, cane. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Quante bestie sulla via, ia ia o. C'è il gatto, gatto, ga, ga, gatto. Vai con Bob in fattoria, ia ia o. Ciao bambini, spero vi siate divertiti. Bambini, guardate, John sta dormendo. Il sole è sorto ed è ora di svegliarsi. Stai dormendo, stai dormendo. Fratello John, fratello John. Suonan le campane, suonan le campane. Din, din, don, din, din, don. Stai dormendo, stai dormendo. Fratello Jack, fratello Jack. Il pane è nel forno e le ocche che fanno. Quec, 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 quec. Stai dormendo, stai dormendo. Desiree, desiree. Senti le galline, senti le galline. Coccodè, coccodè. Non è una mattina incantevole? Ci vediamo presto. Ehi bambini, guardate, c'è Giacomino. ha una bella crostata. C'è Giacomin che su un tavolino si mangia una crostata. Il suo dito allunga, trova una prugna e dice ma che bella giornata. C'è Giacomin che su un tavolino si mangia una crostata. Il suo dito allunga, trova una prugna e dice ma che bella giornata. c'è Giovannin che beve in giardino lui ama le limonate. Vede un insetto e dallo spavento scappa via gambe elevate. C'è Giovannin che beve in giardino lui ama le limonate. Vede un insetto e dallo spavento scappa via gambe elevate. ecco Daniele siede in cortile legge i suoi fumetti. arriva un amico e a lui fa contento siedi e guarda con me. ecco Daniele siede in cortile legge i suoi fumetti. guardate quei bambini come saltellano. 5 bambini saltellano sul letto uno cade giù e si rompe il cervelletto chiamano il dottore il dottore ha detto basta con i bambini che saltellano sul letto quattro bambini saltellano sul letto uno cade giù e si rompe il cervelletto chiamano il dottore il dottore ha detto basta con i bambini che saltellano sul letto 3 bambini saltellano sul letto uno cade giù e si rompe il cervelletto chiamano il dottore il dottore ha detto basta con i bambini che saltellano sul letto 2 bambini saltellano sul letto uno cade giù e si rompe il cervelletto chiamano il dottore il dottore ha detto basta con i bambini che saltellano sul letto un bambino saltellano sul letto un bambino saltella sopra il letto ecco cade giù e si rompe il cervelletto chiamano il dottore il dottore ha detto ora voi bambini filate dritti al letto sono in dieci nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù 9 9 sono in 9 nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù 8 8 sono in 8 nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù poi uno cade giù 7 7 sono in 7 nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù 6 6 sono in 6 nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo 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 rotolando 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 poi uno cade giù 5 5 sono in 5 nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù 3 6 sono in 3 nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù tre tre sono in tre nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù due due sono in due nel letto e il più piccolo ha detto rotoliamo rotoliamo rotolando rotolando poi uno cade giù uno uno ce n'è uno nel letto e il più piccolo ha detto buonanotte ehi bambini balliamo uno due le mie scarpe le tue tre quattro alla porta abbatto cinque sei i bastoncini miei sette otto in fila io li metto nove dieci fa la chioccia se riesci e c'è dell'altro undici dodici scavando divertiamoci tredici quattordici le tate sanno accoglierci quindici sedici dolce sanno cuocer diciassette diciotto aspetta finché è cotto diciannove venti già finito accidenti facciamolo ancora uno due le mie scarpe le tue tre quattro alla porta abbatto cinque sei i bastoncini miei sette otto in fila io li metto nove dieci fa la chioccia se riesci undici dodici scavando divertiamoci tredici quattordici le tate sanno accoglierci quindici sedici dolce sanno cuocer diciassette diciotto aspetta finché è cotto diciannove venti già finito accidenti uno due le mie scarpe le tue tre quattro alla porta abbatto cinque sei i bastoncini miei sette otto in fila io li metto nove dieci fa la chioccia se riesci undici dodici scavando divertiamoci tredici quattordici le tate sanno accoglierci quindici sedici dolce sanno cuocer diciassette diciotto aspetta finché è cotto diciannove venti già finito accidenti vi è piaciuto allora presto ehi bambini lo conoscete voi il pasticcere lo conosci il pasticcer il pasticcer il pasticcer lo conosci il pasticcer lo conosco il pasticcer il pasticcer il pasticcer lo conosco il pasticcer che sta in fondo al pasticcer lo conosco il 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 pasticcer lo conosco si andiamo dal pasticcere il pasticcere il pasticcere si andiamo dal pasticcere che sta in fondo al quartier che simpatico il pasticcere ci vediamo presto per altri simpatici personaggi con bobby il treno bonjour les enfants allons voir ce que fait johnny 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 oui papa tu manges du sucre non papa raconte tu dieu barbare non papa ouvre ta bouche ha 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 johnny johnny oui papa tu manges du sucre non papa raconte tu dieu barbare non papa ouvre ta bouche ha 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 johnny johnny oui papa tu manges du sucre non papa raconte tu dieu barbare non papa ouvre ta bouche ha 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 johnny n'est-il pas un vilain petit garçon caro 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 Grazie.